Oh tesoro, sono così contenta che tu sia riuscito a tornare a casa per festeggiare il Natale con la tua mammina adorata! Sì, anch'io sono molto felice mamma, ma non mi è ancora ben chiara una cosa... Lui che ci fa qui? Vedi Ash, io e tua madre dobbiamo parlare di cose importanti... Il che prevede di non parlare affatto, non so se mi spiego... Tu piuttosto, perché non ti sbrighi ad aprire i regali? Così poi io e tua madre possiamo controllare le molle del letto... D'accordo, non vedo l'ora! Dunque, credo che sia rimasto solo questo... Non mi sembra di averlo mai visto, da chi arriva tesoro? Vediamo... da Lapponia... Conoscete una certa signora Lapponia? Ma no, razza di microcefalo col cervello di una vertuccia! La Lapponia è un luogo! È dove si dice vive il leggendario Babbo Natale! Ah, capisco! Sa, professore, ora che leggo bene il regalo è per lei! Uh, presto, apriamolo subito! Oh, ma andiamo! Eravamo appena tornati a casa! E ora dove siamo finiti? Oh, oh, oh! Benvenuti nella mia umile dimora! Ah, uno Snorlax Shiny! Ash, ma che diavolo hai fatto? Che cosa hai fatto al povero Babbo Natale? È un Pokémon raro, cosa vuoi saperne tu? Sei sempre il solito idiota combina guai! Chiedo umilmente scuso, signor Elfo! Come possiamo rimediare al danno causato? Beh, un modo ci sarebbe! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto, fatelo sapere qui sotto nei commenti ai fanduppers! Io e Ash vi auguriamo un buon Natale! Ash, non giocare con le Pokéball di Natale!